Ora un'ampia pagina di cronaca, quattro operai della Scala sono rimasti feriti, alcuni di loro anche in modo piuttosto serio, dopo la prima del Falstaff di Verdi, la prima opera in occasione dei festeggiamenti del bicentenario del compositore di Busseto. Incidente sul lavoro questa notte al Teatro alla Scala di Milano. Intorno alle 2, in due diversi incidenti, sono rimasti feriti quattro operai mentre si stavano occupando del trasporto delle scenografie dell'opera Falstaff. Tutti i lavoratori coinvolti negli incidenti fanno parte della squadra trasporti, ma da una prima ricostruzione sembra che due di loro siano scivolati mentre caricavano le scenografie da un camion, provocandosi contusioni alle gambe. Un terzo operaio invece si trovava sul piano di scarico del camion davanti a dei pianali pesantissimi che si sono mossi improvvisamente e lo hanno travolto facendolo finire a terra e riportare soprattutto una grave ferita alla testa. L'infortunato più grave, sempre cosciente e partecipe, è stato soccorso dagli stessi colleghi e dall'infermiera del teatro. Al momento si cerca di mantenere il massimo riservo sulla vicenda, anche se secondo le prime indiscrezioni sembra che uno dei lavoratori sia rimasto ferito in modo grave ed è per questo che è stata presa la decisione da parte del sindacato di richiedere un incontro con il sindaco Pisapia, che svolge anche il compito di presidente della fondazione della Scala. Sempre dal fronte sindacale sono decini gli addetti alle pulizie di uno dei teatri più famosi del mondo, la Scala Appunto, che rischiano di perdere il posto. Dal primo gennaio non hanno più un contratto.